Per questa edizione che cade a ridosso delle elezioni del prossimo 5 novembre, gli organizzatori della giornata Tricolore hanno voluto dare all'iniziativa una valenza regionale, invitando il candidato alla presidenza Nello Musumeci. A Custonacci ci torno volentieri, ci sono stato già negli anni passati, al di là della campagna elettorale, non potevo a maggior ragione mancare quest'anno, questa è una città simbolo per un certo modo di amministrare, è una città che ha alimentato e consolidato speranze in tanta gente in ogni parte dell'isola. Io sono convinto che noi dobbiamo essere, come la politica deve essere, messaggeri di speranze, è una campagna elettorale strana, diversa, la gente ha capito di essere ormai al bivio, la gente ha capito che non c'è spazio per i ciarlatani, per questa demagogia grillina, per questa sorta di società privata governata da Grillo che vorrebbe continuare a comandare come fa con i suoi sindaci e vorrebbe condizionare il possibile futuro presidente della regione. Dall'altra parte ci sono le macerie del centro-sinistra, la coalizione che ha tenuto in piedi Crocetta, governatore, come sapete, impresentabile, che non ha rimosso uno solo dei problemi gravi di questa terra e poi c'è una persona per bene che ha governato, che ha saputo governare, che è rimasto onesto, che è un uomo libero, che non ha un partito alle spalle, che ha ricreato una coalizione di centro-destra alternativa al partito democratico ma che vuole essere il riferimento anche degli elettori stanchi e nauseati di questa sinistra parolaia. Quindi è una campagna elettorale difficile da vivere, da combattere, è una sfida assolutamente esaltante, i nostri avversari ricorreranno alle calunnie, alle diffamazioni, hanno già perso la testa, alcuni danno segni evidenti di nervosismo, ma io sono speranzoso perché i siciliani ormai sono davvero ad uno stato comatoso e non si lasceranno più ingannare né dalla demagogia, né dalle false promesse, né da chi tenta di recuperare una credibilità perduta. L'iniziativa è stata organizzata dal centro studi dinogrammatico guidato da Fabrizio Fonte. Sia in piena campagna elettorale ma il nostro taglio è prettamente culturale, è una manifestazione che realizziamo ogni anno, devo dire ad onore del vero che lui è regolarmente uno dei nostri ospiti. Quest'anno il ragionamento verte esclusivamente sulla Sicilia, appunto con un tema che per una Sicilia libera, forte e giusta. Sono tre temi che ancora oggi, dopo 70 anni di autonomia in qualche maniera, la Sicilia e noi siciliani ambiamo risolvere. Quindi affrontare questa tematica anche attraverso uno dei candidati, appunto che è Nello Musumeci, ci porterà a riflettere su queste prospettive di sviluppo che ci auguriamo possono avvenire quanto prima.